Mini recensione richiesta tramite donazione patrio da Guido Occelli, che mi chiede di parlare del film del 1942, della Walt Disney, appunto il film amato di più, del buon Walt, ovvero Bambi, un classicone che ha distrutto l'infanzia un po' di tutti durante la scena della morte della madre, appunto del nostro cervetto, che insomma tutti conosciamo la storia appunto di Bambi, ma anche se va ridetta, insomma la storia è quella che segue appunto questo piccolo cervo, cerchiato dalla sua nascita appunto fino a quando diventerà in realtà il capo della foresta, diciamo così. In tutto questo nel mezzo c'è appunto la sua crescita, le sue amicizie, l'amore e tutto ciò che vogliamo, circondato appunto da buone canzoncine, da un'animazione tra l'altro incredibile nel 1942, dai disegni animati fantastici. Ora la regia chiaramente è una regia mista, il direttore della regia, nel senso quello, il supervisore regista era David Hand, mentre i registi che hanno girato le sequenze erano parecchi, James Algarb, Billy Roberts, Norman Wright, Sarah Armstrong, Paul Sutherfield e Graham Haddle, che sono i registi puri, il nostro Hand appunto era il supervisore. È un film bellissimo, è uno dei migliori film della Disney, non c'è verso, è un film avvantissimo in quel senso, la scena appunto della morte della madre di Bambi è rimasta addosso a tutti, è una scena praticamente horror, un film terrificante, cotica in quel senso. Tutta la prima parte con loro che si incontra, lui che incontra Tamburino, poi la sua prossima, quella che sarà quando crescerà la sua nuova moglie, tutta la parte finale appunto con i cacciatori, la parte ancora finale con i cani, girata veramente da Dio. Tutti i personaggi di questo film sono mitici, poi ripeto quel tratto, quella macchita, quella meraviglia, quell'arte, nel sapere dare una forza enorme a un personaggio che poteva essere inutile, come appunto un cerbiato, tratto dal famosissimo, sul libro di successo, Bambi, la vita di un capriolo, dell'ungrese Felix Salte, uno dei migliori film di animazione di tutti i tempi, talmente importante che pure Eisenstein ne ha fatto un trattato quasi. È un film di quelli che lasciano senza fiato a tratti ancora, perché si considera che è un film che ha cent'anni praticamente quasi, rimani lì e fai porca puttana, che film è incredibile, quinto classico della Disney, è un classico un'altra volta che dimostrava come Disney negli anni 40 a livello proprio tecnico, a livello artistico fosse avantissimo. Quindi che dire di più di Bambi? Di Bambi è uno dei film che ha traumatizzato, ripeto, tutto il mondo, se non l'avete visto vedetelo, perché è un capolavoro assoluto, è un caldo di quelli indispensabili della Disney, è la ragione Carpenter quando ha paura della Disneyficazione del mondo, di quella di adesso e degli anni 90, come diceva lui, sicuramente qui Disney aveva ancora una forza talmente espressiva che qui, insomma, veramente raccontare questi animali parlanti, fare un film così bello, riuscendo a farci entrare appunto nella storia di un cerbiatto che poi è stato cambiato, non è quello che esiste in America, il cervo come intendiamo noi, quindi l'hanno cambiato, l'hanno fatto diventare un'altra cosa, ma questo poco ci importa, quello che ci importa è che Bambi è un capolavoro, è un film essenziale dell'animazione, uno dei film che ha portato l'animazione avantissimo, anche proprio per come tratta i temi dell'amicizia, della morte, dell'amore, pensiamo che il film è stato fatto fra il 40 e il 42, lascia ancora imbarazzati per la merda d'animazione che fanno adesso, capolavoro assoluto, un caldo incredibile, sto Bambi, se non l'avete fatto vedere i vostri bimbi, fate glielo vedere e preparate i fazzoletti perché piangeranno per tre mesi e mezzo, ma resta il fatto che Bambi è, rimane e resta oggettivamente uno dei migliori film Disney mai fatti e qui, insomma, il film è a dimostrarlo, basta comprare il link del film, il link è qui sotto, insomma, fate un po' voi, trazzuppate, mi piace, scrivete al canale, fate il cazzo che vi pare, soprattutto se amate l'animazione, secondo me Bambi già ce l'avete, se per caso siete giovani e non l'avete mai visto, dategli un'occhiata e lo comprerete subito dopo da questo link che è qui sotto, perché è un film assolutamente imperdibile, non solo un cult, è veramente un classico, uno di quei film d'animazione dai quali per modalità montaggio, musica e molti altri aspetti, molto cinema, anche Mia Zacchiano ci ha preso a manate, quindi fate un pochino voi.